Cosa soffrono le anime nel purgatorio? È diversificato, questa sofferenza è diversificata in mille diversi modi. La nostalgia di Dio ce l'ha ognuna. In più devono soffrire in quello in cui hanno peccato sulla terra. Il peggio è naturalmente l'infedeltà, cioè più che infedeltà, non aver avuto fede. Poi i peccati contro l'amore, le inimicizie, tutto quello che insomma è contro l'amore. Anche le inimicizie, come già detto, vengono punite severamente.